Ciao a tutti e bentornati da Nice Man 5 carissimi iniziati a preparare e a comprare patatine, pop corn, bevande, tutto e di più perché oggi si fa after fino alle 2 di notte massimo 5 perché ragazzi oggi San Diego Comic Con 2018 giorno non me lo ricordo la Warner Bros è impazzita sta pubblicando video 1 al minuto è un'osa assurda e porca miseria hanno pubblicato il trailer di Animali Fantastici dove trovarli in secondo ora hanno pubblicato Godzilla e delle mostri adesso hanno pubblicato anche Shazam il teaser trailer e che calma Warner Bros calmati il San Diego Comic Dura 95 giorni siamo a sabato finisce domani ma in questi altri due giorni cazza fatto cacchio calma iniziamo con questa trailer reaction e spolliciati iscrivetevi al canale attivate la pannellina e rispolliciate perché io inizio play madonna quanto spusato porca caccia misera peggio di un lama oh oh augurs oh madonna che ansia ho paura professor silente eh sì anch'io tutti hanno paura di una cosa eh io c'ho da fare 4-3 nel reaction e che cavolo questa era prima oh basta oh questa è una cosa insolita ciò che il signor Scamander teme più di ogni altra cosa eh dover lavorare in ufficio signore ammazzo procedi Newt che paura ridicolus la magia sboccia mila e solo il rare anime oh lì canso eppure dobbiamo rintanarci nell'ombra oh eccolo lì quell'altro oh ok ma i vecchi metodi non ci sono più utili eccolo lì Grindelwald dagli e il buon caro Johnny Depp qua va no no mannaggia quindi dovrei aiutare a dargli la caccia io non posso agire contro Grindelwald dovrei farlo tu nei tuoi panni penso proprio che mi rifiuterei è tardi buona serata Newt oh andiamo albus silente cari miei mi sta bello e simpatico lei si sottovaluta signor Scamander io non ho la roganza è la chiave della nostra vittoria i babbani non sono inferiori né sacrificabili hey hey ma chi è questo? ma non ho avuto questo gruppo non c'è un mostro che tu riesca a non amare credenza e poi signor Scamander pensa che silente vestirà il lutto per lei? calma raga calma wow wow porcaccia miseria wow 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 frena frena wow 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 lei è un fantasma ma non è un fantasma sono vivo ma sono un alchimista e perciò immortale oh Nicola Flamella Jakob Kowalski oh 15 sentina che bellezza wow ragazzuoli wow non sarei mai aspettato allora intanto qua da queste parti potete trovare un mio fantastico video se non volete ascoltare io che chiacchierò comunque 3 2 1 partiamo pom olè il nostro mondo staccato madonna davvero non la prima l'estinzione di massa che tenevamo è già iniziata no e ne siamo noi la cosa ma questa attrice è quella ho fatto 11 in 13 no che ho detto madonna questa è l'attrice ha fatto che ha depilato 11 in Stranger Things credo non lo so è la squadra ma pure hand vabbè zitti tutti shh ma come tutti gli organismi viventi la terra ha scatenato degli anticorpi per combattere questi infezioni i suoi originari i legittimi governanti i titani eh per migliaia di anni queste creature sono rimaste nascoste in giro per il mondo se i titani non verranno trovati tutti ora il nostro pianeta perirà no calma raga loro sono l'unica garanzia che la vita andrà avanti quella mano mi sa che fuori a brutta fine non lo so è proprio ma è alla raga oh 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 lei ha totalmente perso la ragione mi dispiace ma questo è l'unico modo sei un mostro mi dispiace lunga vita re ma ah 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 maiana altro è il potere altri animali fantastici dove trovarli e i mini del vado ne havo su Porca puttana Che trailer Wow Ciao ciao a tutti Qua tornati Shazam ragazzuoli Allora ci siamo Avete appena visto la mia trailer reaction Al trailer del film Animali fantastici e crimini di Grindelwald Poi la mia seconda trailer reaction Ovvero Godzilla 2 Oppure Godzilla il dio De mostri e adesso tocca Shazam e quindi Shazam Sei scappato dalle famiglie affidatarie Di second day So badare a me stesso A 18 anni Dà fiducia a questa gente Come loro la danno a te Bambini di suoi Lui è Billy Batson Fatelo sentire a casa Sembrano bravi Ma non a bucare In realtà è peggio del trono di spade Su Ti prendo in giro Lo so che pensi Come sei cupo Sei orfano e disabile Che altro vuoi Wow Sti riferimenti mi gavano eh Puoi avere un superpotere Quale vorresti? Tutti scelgono Volare Sai perché? Per volare via da questa conversazione No Perché gli eroi volano Aspetti che la tua finta famiglia Venga a difenderti? Ehi Oh quanto mi dispiace Dai 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 Levatevi Ci siamo Forse la DC c'è il seccato Porca miseria Altro è Wonder Woman Billy Batson Io scelgo te Come campione Che spettacolo Che c'è? Di il mio nome I miei poteri Scorreranno in te Ma io non so qual è il suo nome Shazam Ma che davvero? Dillo! Ok Shazam Oh 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 Sono io sono Billy Che sta succedendo? Tu sei l'unico che sa qualcosa di questa roba Da crociato in cappucciato Posso? Oh sì sì Oh no Oh no Oh no Pazzesco vero? Quale superpotere hai? Superpotere? Non so nemmeno come fare pipì con questo Hai la superforza Puoi volare? Stai bene? Perché non parli? Una lucidata non basta Telefono carico Telefono carico E sta attento Tu sei un criminale, vero? Shazam Ehi amici Sei immune ai proiettili Antiproiettili Siete morti Scusa per la vetrina Buonanotte Ma almeno non ti hanno rapinato Oh ehi Ciao Sono un supereroe Ma che cazzo Ragazzi Tipo Mio padre era guardiano di un faro Mia madre è una regina Ma la vita mette insieme le persone Potresti unire i nostri mondi un giorno Guarda un po' Arthur Parla con i pesci Lascia che mi stanno Lascia che mi stanno Ecco questa è la scena che ho visto Mi hanno reso ciò che sono Posso salire a bordo Ti stavo cercando Il tuo fratellastro Re Orm Vuole dichiarare guerra Al mondo in superficie L'unico modo per fermare la guerra È che tu prendi il posto che ti spetta come re Credimi Non sono un re Pensi meglio quando non pensi affatto Un discorso di incoraggiamento Pietoso Meglio si allacci le cinture Benvenuto a casa Roba tosta Mio fratello è venuto qua giù Per sfidarmi per il trono Più per una sculacciata Non sono un leader Sono venuto perché non ho scelta Per salvare la mia casa E le persone che amo Non ti senti degno di regnare Perché vieni da due mondi diversi Ma è esattamente per questo Che ne sei degno Era pazzesco La guerra arriva in superficie E io porto la collera Dei sette mari con me Siamo qui Che fai? Aspetta Aspetta Era senza barracadute Le rosse Le vie mare Primo gennaio Oioia Oioi Oioi Che cosa ho appena visto? Oh porcaccia miseria Porcaccia miseria Allora ci sono delle scene Wow E poi su dopo vedi un'altra scena E dici Porca miseria Non ci siamo per niente Allora ci sono delle scene Allora ci sono delle scene E poi su dopo vedi un'altra scena E poi su dopo vedi un'altra scena Allora ci sono delle scene